Allora, Davide Casaleggio, lei da tempo non è più iscritto al Movimento 5 Stelle che ricordiamo è stato fondato insieme a Grillo da suo padre Gianroberto e lei è molto critico con la leadership di Giuseppe Conte che peraltro Grillo cerca di demolire giorno dopo giorno dopo il nefasto esito delle elezioni europee. Che cosa sta sbagliando Giuseppe Conte e cosa sono diventati oggi i 5 Stelle? Io vedo spesso che si parla di regole, di nuovi modi, di nuovi leader, di nuove persone che devono essere sostituite uno all'altro. In realtà si sta parlando di un modello che era pensato in un altro modo. Aveva delle regole che interpretavano dei principi e questi principi definivano un'identità. Questo era il tema. Oggi si sta cambiando qualche regola qui e là senza capire che poi viene meno anche l'identità. Lo hanno capito diversi milioni di italiani che non hanno più votato. Ma per esempio quali sono i principi che sono stati abbandonati che hanno cambiato così tanto l'identità? Allora, il tema è proprio di struttura. Se noi pensiamo al movimento con una barca, una barca a vela ha le vele, ha tutto il resto, ha bisogno di una squadra che gestisca tutto. Va lenta ma va lontano. Dall'altra parte si ha un motoscafo che va veloce, si ottiene subito l'obiettivo, ma ha bisogno di benzina e quindi ha bisogno di finanziamenti pubblici. Oggi si sta usando una barca a vela, tirando giù le vele e pensando di andare col motore d'emergenza. Quindi questo è un po' il problema oggi della struttura del Movimento 5 Stelle che vedo. Non è perché lei non è più con Rousseau, diciamo, anche un supporto fondamentale del Movimento. Ma si può usare qualunque tecnologia, non è un problema di tecnologia, è un problema di partecipazione dal basso. Chi sceglie i parlamentari che devono andare in Parlamento? Chi sceglie come spendere i soldi del Movimento? Qual è il meccanismo che viene messo in piedi? Oggi ovviamente è un meccanismo molto centralizzato. E questo ovviamente porta... C'è un bellissimo libro che parla delle stelle marine e dei ragni in termini di organizzazione. E le stelle marine, se si taglia un tentacolo, il tentacolo ricresce. I ragni, se muore la testa, muore tutta l'organizzazione. E queste sono due organizzazioni completamente diverse. Quindi sta morendo il Movimento 5 Stelle? Ma sicuramente. Già lo si vede dal punto di vista dei risultati elettorali. Cioè è sotto gli occhi di tutti. Allora, Andrea Scanzi, sei anche tu così pessimista? Ci si chiede un pochino, perché dice Casaleggio, che il modello era completamente diverso un tempo del Movimento 5 Stelle. E quindi...